Poi sentiamo gli altri, dicono io sono coerente, io siccome non voglio prendere in giro gli elettori, io non ci vado. Ma non li prende in giro. Gli altri, gli altri lo fanno solo per tirare sulla lista. Capito che tu vuoi fare polemiche, io ci sto dicendo che c'è una ragione. Io non c'entro perché vado in un Parlamento e non solo in un Parlamento. Ma chi è in un Parlamento e rappresenta il simbolo del suo partito, è giusto che ci vada. È il contrario di quello che dicono i vari Travaglio, mi pare, una persona... Travaglio, adesso dice Travaglio, direttore del Fatto Quotidiano, e che racconta che tra gli euro impresentabili, che sono 23, dice che c'è un signore che si chiama Vittorio Sgarbi, scrive, Vittorio Sgarbi in corsa con Fratelli d'Italia con alle spalle una condanna definitiva per truffa aggravata ai danni dello Stato. Anche grazie ai nostri scoop, Sgarbi è ora sotto inchiesta a Macerata per riciclaggio, vado avanti, di beni culturali e a Imperia per esportazione illecita di opere d'arte. In più a Roma è indagato per sottazione fraudolenta al pagamento delle imposte. Posso, Davide, dire... Vedi che lui non è verifica... È la voce di un condannato con una condanna definitiva per diverse diffamazioni, quindi questa è un'altra, avrà un'ulteriore condanna. Però a molti giornalisti può capitare di... Avrà un'ulteriore condanna per questo che stessa... Lui ha già condannato in via definitiva il signor Travaglio, si chiama... No, Travaglio, ma dai non storpiamo i nomi... Io non so chi sia. Marco Travaglio. Io non so solo che mi hanno detto che è condannato in via definitiva per molte condanne per diffamazione. E continua a diffamare. Qui dice semplicemente che ci sono queste indagini in corso, questo è vero però che ci sono queste indagini in corso. Si sono in corso. Condanna definitiva per truffa aggravata ai danni dello Stato, questo lo scrive il Fatto. Anche per questo lì... Verrà citato in giudizio. Verrà citato in giudizio. Posso dire una cosa? Io trovo che...